E' assurdo, siamo il paese con il più grande patrimonio artistico del mondo e rischiamo giorno per giorno di diventare il paese più ignorante del mondo. Sì, rischiamo proprio così se non si incrementano quelli che sono gli investimenti in Italia non soltanto per la conservazione del patrimonio artistico, ma anche per la diffusione della cultura fra la gente. E' terribile girarsi intorno, parlare con delle persone e soprattutto parlare con i più giovani e sapere quanto loro ignorano del grande patrimonio culturale che esiste nel nostro paese. C'è da fare proprio un lavoro day by day di diffusione culturale tra i più giovani, diffusione culturale che è dovere, dovrebbe essere dovere innanzitutto da parte delle famiglie, ma da alcuni anni mi sembra che le famiglie abbiano rinunciato a questa trasmissione di cultura nei confronti dei propri figli. E questi ragazzi, non è colpa loro, hanno bisogno di trovare dei maestri, dei divulgatori che li appassionino, che gli interessino al grande patrimonio culturale che esiste nel nostro paese.